Salve ragazzi, faccio un breve video per dire proprio un paio di cose Allora, come avrete notato la qualità della webcam è cambiata Perché è cambiata la webcam Wow Per chi è interessato è la C920 della Logitech Che avevo letto che era una delle migliori e di conseguenza Visto che i contenuti devono essere di alta qualità Eccoci qua Seconda cosa, ho notato che alcune persone in seguito all'inizio della serie di gameplay Si sono disiscritte Sapete che io ci tengo a queste cose Nel senso che ci tengo a conoscere Niente, non ci vanno a non scrivere su TS Ci tengo a sapere, immaginare, cercare di capire per quali motivi E la risposta a cui sono arrivato alla fine È che probabilmente queste persone pensano che il canale non sarà più un canale di lore Facciamo un paio di precisazioni al riguardo Io sono una persona sola Il tempo è quello che è E ovviamente ho altri impegni nella vita Come penso abbiate tutti voi Di conseguenza Mi sto dedicando ai gameplay Che però sono gameplay incentrati sulla lore Di conseguenza non sono contenuti così diversi dall'obiettivo del mio canale E seconda piccola precisazione Usciranno altri video di lore L'ho già detto, l'ho già promesso e saranno fatti Ma per questo mese di gennaio Usciranno prettamente, penso, solamente video di gameplay Di conseguenza se volete stare a sentire bene Se non volete stare a sentire, fare orecchie alla mercante Anche quando io stesso dico una cosa Fate come vi pare, insomma È pieno di canali di Warcraft su YouTube Italia Quindi Terza cosa che è la più importante La programmazione dei video Avrete notato che sono usciti due video di gameplay Due video Due Pensate, non si è mai visto qua In una settimana Questo cosa vuol dire? Vuol dire che usciranno almeno per ora Per questo mese Poi non so se a febbraio cambierà qualcosa Ovviamente si parla di aggiungere Due video a settimana Il martedì e il giovedì Per quanto riguarda l'orario di pubblicazione Ho deciso di farli uscire per le 21 Perché ho notato che la maggior parte di voi Guardano questi video Dopo cena, nella serata O anche a notte fonda Di conseguenza ho pensato a questo orario Come ho detto Saranno due video a settimana Sicuramente per gennaio Ma per febbraio non posso garantirvi niente Potrebbero uscirne anche tre Poi mi dispiace Cioè dovrete stare al passo E insomma Mi dispiace tanto per voi Per quanto riguarda invece la durata dei video Volevo fare anche qui una piccola precisazione Ho notato che 30-35 minuti vanno abbastanza bene Di conseguenza la durata sarà all'incirca quella Con i dovuti tagli Come avrete potuto notare nel video Nel video numero 2 Che è stato caricato giovedì E niente Questo è Spero che vi faccia piacere Quanto fa piacere a me Prima di salutarvi Volevo ringraziarvi Perché l'entusiasmo Che mi stai trasmettendo Attraverso i tanti commenti Tanti rispetto a quelli che mi aspettavo io Cioè zero Sotto i video di gameplay Mi infondono veramente Una sorta di Entusiasmo plus Nel senso che io già sono Sono felicissimo di fare questi contenuti Ma avere Un appoggio del genere Da subito Per me è veramente una cosa Sia Assurda Assurda nel senso Che non mi aspettavo E comunque è una cosa Pazzesca Quindi vi ringrazio E Niente Noi ci becchiamo Come sempre Al prossimo video Bella ragazzi Ciao